Amaro Pesce d'Aprile per l'amministrazione comunale di Sala Consilina da parte del gruppo positivo si cambia. Un Pesce d'Aprile lungo diverse centinaia di metri, quanti sono i lampioni della pubblica illuminazione delle vie Mezzacapo e Matteotti, sui quali con un lavoro capillare certosino nel corso della notte sono stati affissi decine e decine di volantini ecologici ma al vetriolo. Gli stessi volantini sono stati affissi anche in altre zone cittadine a partire da Trinità. Lo scorso anno il gruppo positivo si cambia aveva spiazzato tutti, giornalisti compresi, con un Pesce d'Aprile originale a dir poco, un comunicato stampa totalmente inventato nel quale si annunciava la fuoriuscita dal gruppo di Tonino Santarsiere, che era stato il candidato a sindaco alle elezioni amministrative. La goliardata aveva suscitato reazioni non tutte positive, che a distanza di un anno fanno da spunto a un nuovo Pesce d'Aprile del gruppo positivo. Questa volta però ad essere presa di mira dal gruppo salese e l'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone. L'anno scorso si legge sui volantini del gruppo positivo, affissi perfino davanti al municipio, in molti si sono incazzati per il nostro Pesce d'Aprile, quando si incazzeranno tutti per i continui Pesci d'Aprile che l'amministrazione salese propone ai cittadini. Segue una lunga lista di esempi considerati i Pesci d'Aprile della maggioranza dal gruppo positivo. A partire dal progetto Circoliamo, alla sbarra dei Giardinetti, alla vicenda dell'appartamento del piano di zone in via Macchia Italiana, e poi ancora il parcheggio Cravatta, il mercato, la mensa scolastica, la commissione pari opportunità, la piazzetta Trinità, la bolletta Tari, la riedda, i 720 nuovi alloggi, lo streaming dei consigli comunali, le associazioni sfrattate, il taglio degli alberi e l'ex mattatoio. In tutto 15 voci, al fianco delle quali nei volantini si leggono brevi e ironici commenti. Insomma, il primo aprile del gruppo positivo si cambia all'insegna della forte polemica politica, e non a caso il volantino include una frase di Mark Twain. Primo aprile è quel giorno in cui ci viene ricordato quello che siamo negli altri 364. I volantini sono stati incollati su decine e decine di palli della luce, ma in evidenza viene riportato a chiare lettere la loro natura ecologica. Non è positivo imbrattare il paese, si legge in conclusione, e il gruppo positivo assicura che entro 48 ore dalla loro affissione gli stessi volantini saranno rimossi.